Giancarlo Magalli e Adriana Volpe oggi si sono incontrati a Verissimo a distanza di 7 anni dalla querela che la conduttrice gli ha fatto con l'accusa di diffamazione Il giudice ha condannato Giancarlo Magalli per diffamazione aggravata, ha dichiarato La conduttrice a Silvia Toffanin, la frase incriminata, le donne si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni, è stata ritenuta diffamante dal giudice Questa frase ha colpito me come donna, madre e professionista, ha continuato, era doveroso farne una battaglia legale e alla fine ho vinto Non è che questi 7 anni di percorso giudiziario sono iniziati per un capriccio Adriana Volpe, le critiche alla Rai, l'azienda non ha preso posizione in questi 7 anni perché aspettava le sentenze, ora però le sentenze sono arrivate Ne ho fatta una su Roma e una su Milano perché nel frattempo ha rilasciato un'altra intervista diffamante e anche in quel caso ho vinto Ci sono ben tre sentenze di condanna. All'epoca venni allontanata dal programma e lasciarono lui a condurre e mi arrivò anche una lettera di richiamo perché avevo portato a galla il fatto che secondo loro sarebbe dovuto rimanere nascosto e gestito privatamente Io non sono stata reintegrata, dalla Rai, NDR, nel mondo dello spettacolo non siamo dipendenti L'incontro in tribunale, l'ultima volta abbiamo iniziato a parlare e ci siamo raccontati come in questi 7 anni la nostra vita è cambiata tanto Abbiamo parlato come non avevamo mai parlato neanche quando lavoravamo insieme e abbiamo lavorato insieme per anni. Lo guardavo e guardavo anche come in questi 7 anni fisicamente siamo cambiati. Umanamente siamo diversi, siamo entrati in quell'aula consapevoli che quello sarebbe stato l'ultimo appuntamento. Il giudice ha dato la sentenza, lo ha condannato e io l'ho guardato e ho pensato, tutto questo non mi deve inquinare Così mi sono avvicinata e gli ho detto, posso darti un abbraccio perché ne ho bisogno? Non provo più rancore e non ho più rabbia dentro Così ci siamo abbracciati, lui all'inizio era un po' rigido, poi ho sentito un vero e caloroso La parola scusa, però, non me l'ha mai detta, Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, l'incontro nello studio di Verissimo L'abbraccio è stato liberatorio, abbiamo buttato 7 anni della nostra vita, ha commentato Giancarlo Magalli appena entrato in studio, non le ho mai chiesto scusa perché non è mai capitato, non è vero che l'ho offesa come mamma e donna Chiedo scusa, sono stato frainteso, ma se avessi parlato di un conduttore maschio sarebbe andata diversamente Di un uomo non pensi all'aspetto s-tressuale, di una donna purtroppo sì Colpa mia, lo ammetto, chiedo scusa, ecco un po' di video, qua, invece, l'intervista completa